Noi abbiamo non una buona squadra, un'ottima squadra. È nata per raggiungere degli obiettivi anche importanti nella categoria ovviamente. Ora siamo, purtroppo c'è stato questo evento della San Benetese un po' inaspettato, un po' la macerattese dell'anno passato. Noi abbiamo avuto un pochino, una flessione purtroppo non bella, però siamo ritornati mi sembra alla grande e credo che davanti a queste 17 partite e tanti punti da mettere nelle nostre tasche ci possano essere possibilità di arrivare molto vicini alla vetta.